ciao ragazze in questo video voglio parlarvi di quattro cipre che sono quelle l'ultima quattro che ho provato per farvi una review magari vi dico quali sono aspetti positivi negativi che ho riscontrato come mi sono trovata quanto mi sono durata e quindi un video recensione e niente iniziamo la prima di cui voglio parlare comunque una cipra di essence ed è quella che ho terminato prima di queste quattro era questa qua e faceva parte della collezione valentine cookers quindi san valentino dell'anno scorso era la 01 guys hallowed not all'interno c'erano otto grammi di prodotto e aveva 24 mesi di pao questa in generale di queste mi sa che quella che mi durata di più questa mi durata più di quattro mesi considerate che l'applicato una volta al giorno tutti i giorni ed era fatta così sono tutte cipre comunque trasparenti perché mi piacciono più queste trasparenti perché comunque non cioè non si vede sul viso sono molto più leggera secondo me niente questa praticamente aveva un odore un po sul limone molto aggrumata mi piaceva tantissimo perché non era troppo polverosa comunque mi opacizzava considerate che l'anno scorso avevo la pelle più tendente al secco rispetto a quello di quest'anno quindi avevo meno bisogno della cipria però mi piaciuta tantissimo mi ha durato appunto più di quattro mesi e non lo so mi opacizzava considerate che il trucco mi durava dalle 6 agli 8 ore massimo però erano le ore che mi andavano benissimo e se la trovate ve la consiglio anche se era un'edizione limitata quindi non credo neanche che ci sia neanche nel sito di cosmetic for less poi in ordine cronologico la seconda cipria che ho finito è questa questa è la debbi powder experience che costa intorno ai 5 euro 5 50 se non sbaglio è sempre di quelle cipria trasparenti e praticamente qui dice che c'ha ingredienti minerali e la matte fix powder è praticamente opacizzava quello che non mi è piaciuto di questa cipria innanzitutto è che si è si è rotta subito e considerate che io comunque ci tengo e sto molto attenta è la numero zero perché appunto è quella più chiara all'interno ci sono 8,5 grammi di prodotto e 24 mesi di pao anche questa mi piaceggiava tutto il giorno questa l'ho utilizzata nel passaggio da la pelle secca alla pelle quasi normale perché comunque la mia pelle migliorata tantissimo e vi consiglio tantissimo anche questa perché comunque è una cipria che costa poco è accessibile a tutti si trovano molto facilmente non lo so mi sono trovata benissimo per essere una cipria che comunque costa 5 6 euro 6 euro al massimo e comunque la performance mi piaceva semplicemente questa l'ho trovata un po' più polverosa rispetto a quella di essence e adesso sicuramente proverò anche quella di essence quella che c'è in gamma permanente che l'avevo trovata nel calendario dell'avvento di essence che non ho ancora utilizzato perché stavo terminando appunto altre ciprie e comunque ve la consiglio tantissimo anche se è leggermente più polverosa dell'altra poi ho terminato questa che questa è la mia cipra preferita in assoluto questa è la flat perfection di neve cosmetic praticamente alla drama matt autogrammi di prodotto ea 12 mesi di pao questa l'ho terminata allo stesso in circa 4 mesi a un altro aspetto che non mi piace della debbi è il fatto che comunque mi durata due mesi al massimo quindi pochissimo proprio perché era più polverosa e niente invece questa mi è piaciuta tantissimo è diventata la mia cipria preferita è compatta ha un buonissimo profumo questa costa 15 euro l'ho pagata col 30 per cento col 20 per cento quando c'era uno sconto è uscita intorno a novembre con una collezione però c'è ancora in gamma e sicuramente quando termino le altre ciprie ne ho una che vi mostrerò adesso che sto terminando quella di essence ritornerà questa perché comunque io ho provato queste quattro perché prima proprio perché ho la pelle ancora più secca addirittura non utilizzavo la cipria e di queste quattro comunque quella che mi piace di più è quella di è questa qui e quindi sicuramente la cui serve è quella che costa di più delle quattro però mi piace tantissimo naturalmente questo essendo bio un prodotto completamente vegetariano e vegano quindi ve lo consiglio anche per questo perché comunque un prodotto comunque completamente bio e quindi anche questa caratteristica in più questa appunto mi durata intorno a tre quattro mesi al massimo la utilizzavo tutti i giorni questa l'ho utilizzata anche due volte al giorno però non tutti i giorni qualche giorno che magari vedevo che era un po più lucida proprio perché poi la pelle adesso ce l'ho molta più idratata ho capito come idratarla e quindi più è meno secca cioè praticamente non è più secca e quindi ve la consiglio tantissimo perché mi è piaciuta tantissimo e sicuramente la riacquisterò appena termino gli altri perché è quella che ho amato di più e poi l'ultima che ho acquistato della quella che sto utilizzando adesso è questa qui dell'alchimilla quindi anche questo è completamente bio si chiama velvet powder invisible dentro ci sono 10 grammi di prodotto a 12 mesi di po e costa 12 euro e 90 però l'ho acquistata a 9 euro e 90 quando c'era uno sconto è praticamente così quadrata il packaging c'è uno specchio e la cipria questa come vedete c'è già un solco infatti sicuramente un mese e mezzo massimo due l'ho terminata questa diciamo che mi piace a me rispetto a quella di neve cosmetics perché è molto polverosa molto di più della debil che ho mostrato prima e per questo sta terminando molto in fretta e non lo so vi lascia comunque un aspetto un po cipriato nel viso secondo me subito appena applicata si vede che avete la cipria addosso e questo non mi è piaciuto comunque opacizza benissimo quello mi è piaciuto tantissimo perché comunque a volte non c'è bisogno neanche di ripassarla anche adesso che leggermente a volte mi lucido soprattutto se ci sono in posti molto chiusi al caldo però non mi è piaciuto appunto il fatto che non lo so è troppo polverosa proprio cioè ma molto si vede tantissimo proprio nel pennello quando lo utilizzo e quindi se ne spreca tantissimo di prodotto quindi non mi piace quello comunque e niente fatemi sapere voi cosa pensate di queste cipria comunque le mie preferite sono come avete capito quella di neve cosmetics di quelle bio almeno di queste che ho provato e poi quella di essence come seconda diciamo cipria sicuramente adesso che termino questo poi che utilizzo l'altra diciamo di quella della gamma permanente di essence ritornerò alla neve cosmetics perché è quella che mi piace di più e niente fatemi sapere voi quale utilizzate quali sono le cipria che magari mi volete consigliare cosa pensate di queste se vi piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao ciao